Ciao ragazzi, oggi stiamo percorrendo la ciclovia della Val Brembana che ormai da Bergamo, mancano quei due chilometri di collegamento ma ormai da Bergamo collega appunto la città dei Mille a Piazza Brembana poi chi vuole può anche prendere la strada del San Marco e andare in Valtellina però bisogna avere un po' di gamba questa è una delle vecchie gallerie della vecchia ferrovia perché appunto la ciclovia scorre dove un tempo correva il treno e stiamo provando le e-bike della Bianchi io sto guidando un'aria e divertente